Oh, giovani amici di Facebook, oggi torniamo a parlare di cuffie, con queste cuffie Bluetooth della Creative si chiamano Outlier, direi che si pronuncia così sono direi indirizzate a un target molto giovane, visti i colori superfluo che vedo già nella confezione la cosa particolare è che si possono personalizzare queste bande con delle bande che sono incluse dentro alla confezione però queste cuffie Bluetooth hanno altre caratteristiche molto interessanti, a parte questo look molto giovane esistono anche in nero, se le volete un po' più serie ma andiamo ad aprirle così ve le faccio vedere per bene e vi dico che altro hanno di interessante oltre che essere delle cuffie Bluetooth come ce ne sono tante in realtà adesso sul mercato ok, la confezione è super mini ma però si apre agevolmente per una volta niente di particolarmente difficile come vi dicevo sono inclusi questi laccetti qui in plastica sotto ci sono vari documenti che ci interessano fino a un certo punto poi ci sono anche due cavi, uno è un micro jack to micro jack e vi spiego a cosa serve l'altro è un cavo mini, anzi micro usb deve essere sia per ricaricare le cuffie sia per fare un'altra cosa assolutamente interessante queste sono le cuffie, sono super leggere, davvero leggerissime, sembra di non averle in mano tiro fuori anche i due cavi, come vi dicevo uno è un semplicissimo cavo audio jack jack che serve semplicemente a utilizzare le cuffie con il cavo invece che wireless perché magari si sono scaricate o perché le volete collegare a qualcosa che semplicemente non sopporta il Bluetooth quindi è molto comodo, è la stessa roba che abbiamo visto per esempio se vi ricordate su quelle cuffie Sony per la PlayStation, fondamentalmente potrete collegare semplicemente alla cuffia questo jack e l'altro jack direttamente al vostro device che non sopporta Bluetooth o per cui magari volete una qualità audio superiore al Bluetooth perché chiaramente via cavo sarà sempre superiore al Bluetooth piuttosto che invece magari sia scaricata la batteria interna di queste cuffie che per informazione Creative dichiara in 10 ore di musica e 8 ore di conversazione dico conversazione perché le cuffie integrano anche un bel microfono e sono utilizzabili come microfono e cuffie per il vostro smartphone per esempio quindi se la copiate con uno smartphone potrete utilizzare il microfono integrato che è questo buco qui, quindi questo è il verso giusto diciamo delle cuffie con lo smartphone per telefonare, cosa molto comoda l'altra roba molto particolare di queste cuffie è questo cioè c'è una porta micro SD quindi potrete mettere dentro una schedina micro SD con dentro degli MP3 e quindi fondamentalmente queste Creative integrano un lettore MP3 questo significa che non dovrete ogni volta portarvi dietro il cellulare o altri device da collegare ma potrete semplicemente ascoltarvi la vostra musica sulla schedina SD che inserite qui dentro è molto comoda questa funzione per esempio se andate a correre o se volete usarla in giro senza portarvi dietro altri device, è una funzionalità direi molto comoda c'è qui sopra il controllo avanti e indietro vediamo se riesco a vedere meglio qui next e prev e invece quest'altro è il controllo del volume questa è la porta micro SD che serve sia per ricaricarle sia per dicevo prima collegate al computer vengono viste se è presente la schedina SD come semplicemente un disco fondamentalmente e quindi potrete dragare gli MP3 direttamente dentro le cuffie senza dover ogni volta tirare fuori la schedina SD anche questo è molto comodo, semplicemente le collegate al computer trascinate dentro i file e vi ritrovate la vostra musica direttamente dentro alle cuffie sulla parte sinistra c'è solamente il jack per la porta da 3 mm e mezzo per il jack incluso per renderle wired fondamentalmente sono regolabili in questa maniera non ruotano su se stesse i padiglioni i padiglioni ospitano due driver da 32 mm al neodimio che per intenderci è quella stessa tecnologia e materiale utilizzate anche nelle Philips SHL3300 di cui vi ho parlato un po' di mesi fa che costavano poco e suonavano veramente molto molto bene quindi un suono molto definito bassi corposi, alti super definiti e medi altrettanto quindi se come mi aspetto il neodimio fa lo stesso lavoro che fa sulle Philips queste cuffie suonano veramente bene rispetto alla spesa come vi dicevo sono personalizzabili cambiando questi laccetti creative addirittura dice che questi non servono solamente per personalizzare l'estetica delle cuffie si possono anche togliere come vedete ma addirittura cambiano anche l'audio delle cuffie cioè con questi montati i bassi dovrebbero essere più potenti da quello che ho capito da quel poco che ho capito oltretutto, altra cosa super particolare creative mette a disposizione sul suo sito i progetti 3D per stamparsi da soli queste fascette che mi sembra un po' una forzatura però se avete una stampante 3D a casa potete stamparveli voi non solo però sono anche compatibili con le Rainbow Bloom che sono questi braccialetti super famosi negli Stati Uniti ma non credo presenti in Italia comunque ci sono anche da noi sono quei classici braccialetti in plastica che vanno tanto tra i teenagers da mettersi al polso per cui se avete un braccialetto in plastica e che vi piace particolarmente potete inserirlo qui al posto di quelli che vengono forniti da creative sono comunque tanti come vedete io mi sa che gli lascio quello nero o anche niente peccato che però la scritta qui outlier sia comunque arancione questa non si può cambiare io avrei evitato di inserirla è veramente insomma abbastanza giovane un po' troppo giovane per i miei gusti sì, questo si può cambiare ma questa no che altro? è presente anche qui un tasto per rispondere come vi dicevo sono associabili via bluetooth anche a uno smartphone a quel punto sono utilizzabili per telefonare con il microfono integrato che è qui e con questo tasto qui molto comodo potete rispondere semplicemente alla chiamata come vedete c'è il logo NFC perché sono associabili a cellulari o altri device che supportano appunto questa tecnologia per tutti gli altri device si tratta semplicemente di mettere le cuffie in pairing mode e di accoppiarle niente di che un attimo che voglio togliere anche quello di destra perché chiaramente arancione non lo posso vedere vediamo nero, nero sta un po' meglio ci sono anche bianchi volendo ci sono come vedete tutti colori abbastanza fluo quindi c'è questo rosa c'è questo verde fluo c'è questo arancio che è quello che viene montato di base e c'è anche il giallo e c'è anche il bianco quindi in totale sei colori diversi è presente se le utilizzate con smartphone Android c'è anche un'app di Creative con cui è possibile sia configurarle un minimo a livello audio ma anche addirittura c'è questa buddy app si chiama che se appunto le cuffie sono associate con il telefono vi legge in cuffia i messaggi in arrivo gli sms eccetera come vi dicevo queste cuffie sono super leggere suonano grazie ai driver in neodimio molto bene sono associabili via bluetooth con qualunque device fondamentalmente supportano il bluetooth 4.0 e hanno questa figata di aver integrato un lettore SD e quindi un lettore mp3 integrato che vi permette di ascoltare la vostra musica anche quando non avete con voi il device a cui sono associate di listino costano 99 euro non so perché in questo momento su Amazon costano un po' di più vi consiglio di cercarle su altri store online oppure di aspettare che su Amazon tornino a un prezzo decente probabilmente non sono venduti in questo momento da Amazon ma da altri venditori che se ne stanno un po' approfittando esistono anche in nero se le volete un po' meno giovani diciamo così se vi sono piaciute queste cuffie di Creative fate like, fate share e ci vediamo al prossimo video di Incautaboxing ciao ragazzi grazie a tutti